buon di buona gente sono luigi in arte lusio anzi professor lusio e benvenuti a questa nuova video lezione questo è il primo video di una piccola serie che ho deciso di dedicare a un caso riguardante un crimine forse uno dei più famosi in assoluto scusate se sono un po giù di voce ma ho detto non è che sto tanto bene in questo periodo domani a dio piacendo vado a farmi le analisi che dio me la mandi buona ma va bene ragazzi chi se ne frega di me allora e niente ci tenevo particolarmente a fare un video su questo argomento non per fascino morboso ma diciamo che piacendomi un poco il genere true crime avendo un po il pallino per i gialli per le investigazioni e quant'altro ho sempre un po sognato di fare una sorta di video su questo argomento su questo caso in particolare con me che scignotto bellamente carlo lucarelli come se fossi come stessi conducendo una puntata di blu notte vabbè giusto per farvi capire quanto sono vecchio e purtroppo però diciamo non sono non sono carlo lucarelli questo non è blu notte non sono uno di quegli youtuber o di quelle youtuber che si occupano principalmente di casi criminosi sono il vostro professor lusio tanto per cambiare questo passa il convento bene ho deciso di fare più di un video ho calcolato che saranno compreso questo otto video perché comunque l'argomento se volevo mostrarlo bene se volevo raccontarlo bene per filo e per segno se volevo toccare tutti gli argomenti che mi interessava toccare non ce la facevo con un unico video ma nemmeno con due o tre video ragazzi mi ci voleva molto molto di più e guardate e poi anche perché avendo letto tra una delle fonti che adesso vi mostrerò tra le fonti che ho ai cui a cui ho attinto per fare questi video ho deciso di impostare principalmente questo questa serie su le vittime principalmente poi capirete anche per quale motivo e quindi sono giunto alla decisione di fare più di un video spero di non di non annoiarvi se volete vedere in questo modo magari saranno video magari anche un po più brevi ma non ci contate molto perché conoscete me sapete quanto sono logoroico e quindi non si può mai sapere capace che vi dico che saranno video di una ventina di minuti e vi tiro fuori otto video da un'ora ciascuno conoscendomi ne sarei capacissimo ma cercherò di non rompervi troppo le scatole diciamo di non tirare troppo la corda e poi beh ci saranno un bel po di difficoltà che incontrerò dal momento che se solo uso termini troppo violenti rischio che youtube mi faccia il il mandolino a quattro parti ecco quindi devo stare pure attento con la scelta delle parole già solo per il titolo come avrete capito come avrete capito sono andato molto molto con i piedi di piombo perché sì ragazzi vi sto per tirato in ballo il titolo vi parlerò da qui per le prossime sette video lezioni del caso di jack the ripper jack lo squartatore che chiamerò jack per non abusare un po troppo di quella definizione troppo violenta mi dispiace guardate io non lo farei perché sapete che comunque sono uno che ci tiene a dire le cose per quello che sono però purtroppo le regole di youtube sono queste e purtroppo mi ci devo adeguare mi spiace mi spiace a me per primo ma cercherò di farmi capire più che posso e beh farò una cosa un po più eccezionale questa volta prima di iniziare a parlarvi della storia introdurrò questo prologo in cui appunto introdurrò la vicenda inizierò proprio parlando di quello che di solito lascio sempre a fine video ovvero la cultura generale e le mie fonti allora come cultura generale beh ragazzi su jack the ripper si cosa non si può più dire ormai penso che tutti quanti più o meno abbiamo conosciuto abbiamo visto il film del 2001 from hell la vera storia di jack lo squartatore con johnny depp nel ruolo dell'ispettore aberlane un film che è piacevole da vedere si vede con gusto però dire che mette quel sottotitolo la vera storia di jack lo squartatore è dire un po troppo ecco è di un tantinello troppo e capirete poi per quale motivo quando nell'ultimo video mi dedicherò alle teorie e ai sospettati poi ci arriveremo avrò tanto da dire secondo me quello sarà il video più lungo vedremo e beh poi ci sono altri film sì ho deciso voglio partire prima dai film e vi parlerò soltanto di quelli che comunque ho visto allora parte from hell la vera storia di jack lo squartatore che comunque di base è un film che consiglio perché è molto bello è fatto bene ha delle ottime atmosfere un'ottima fotografia ottimi interpreti nulla da ridire su questo ci sono poi vari altri film il primo dei quali è del 1959 e si intitola appunto jack lo squartatore qui viene presa viene la storia viene trattata in maniera molto libera ad esempio le vittime non sono quelle là storicamente esatte si evita di parlare un po troppo della prostituzia del mercimonio questo nome lo può censurare youtube si parla del mercimonio in maniera molto lata perché comunque avevamo negli anni in cui comunque al cinema non è che potevi mostrare troppo e già questo film venne molto censurato all'epoca e si sposa la teoria che la teoria proprio che all'epoca andava per la maggiore del del medico folle che uccideva le le prostitute per perché voleva perché per motivi prettamente personali perché le prostitute avevano intaccato lui o per meglio dire suo figlio con una malattia venerea e ragazzi non vi dico niente anche perché la questo film quando l'avevo visto è più di dieci anni fa e già tanto se mi ricordo un po leggermente la trama poi abbiamo il film del 1965 sherlock holmes notti di terrore in cui si crea proprio quella la coppia la la storia che tutti quanti avrebbero voluto vedere ovvero sherlock holmes che indaga sui casi di white chapel sui omicidi di white chapel e si trova a fronteggiarsi con e affronteggiarsi proprio con jack lo squartatore questo film ispirò la serie la coppia un romanzo di della serie dei gialli harley queen dal titolo appunto notti di terrore cambiando però il finale poi sempre sulla falsa riga del di sherlock holmes versus jack lo squarta jack the ripper abbiamo il film del 76 assassinio su commissione molto molto bello devo dire questo qui con a interpretare sherlock holmes c'è christopher plumer un attore famosissimo speciale anche al giorno d'oggi christopher plumer che recentemente ha recitato nel film tutti i soldi di questo mondo se non sbaglio fatemi controllare un attimo la filmografia si ce l'ho sotto mano perché sono ignorante e si tutti i soldi del mondo famosissimo per quel film poi per vari altri è un film molto bello devo dire uno di quelli che più mi sono piaciuti che è sposa la teoria del complotto massonico che è lo stesso del del film del 2001 la vera storia di jack lo squartatore from hell poi abbiamo un abbiamo poi un sì un un film poi per la te abbiamo dei film per la della televisione ovvero un un film una miniserie in due episodi del 1988 la vera storia di jack lo squartatore che io sono riuscito a vedere molto bello molto interessante devo dire la teoria beh è la solita quella che più andava per la maggiore proprio in quegli anni tra gli anni 70 80 ovvero non tanto il complotto massonico ma comunque il medico della regina e infine poi del 1997 un altro film per la televisione the ripper nel cuore del terrore in cui si sposa la teoria che jack fosse un esponente della famiglia reale e per la qualcosa viene insabbiata tutta la faccenda questo solo per la filmografia e già se ne sono andati via dieci minuti che bello passiamo adesso ai miei amati libri beh hanno aspetta sì ai miei amati libri e inizierei forse da quello che è un po il classico dei classici sì perché come vedete mi sto tenendo per ultime le fonti storiche perché quelle introdurranno questo prologo il primo dei libri che voglio sicuramente citare senza se e senza ma è la graphic novel di alan moore from hell che ha ispirato l'omonimo film del 2001 devo dire ragazzi from hell per me è un capolavoro della graphic novel è completo ben disegnato ben scritto è appassionante poi si vede che alan moore ci ha lavorato parecchio perché per ogni aspetto se andate a rivedere metteva le note le note storiche le note delle fonti delle della sua la sua bibliografia eccetera non concordo molto con la la teoria da lui usata che è sempre quella del complotto massonico ma per quella ne parlerò ampiamente nell'ultimo video di questa breve serie quindi lasciamo tempo al tempo non mi voglio già non voglio già parlare del delle teorie quindi quelle saranno proprio la chiusura perfetta poi poi come altri romanzi c'è jack lo squartatore di robert bloc autore del romanzo psycho ebbene questo romanzo è stato forse uno dei peggiori che mi sia mai capitato di leggere perché è assurdo per quanto sia molto interessante la teoria che abbraccia è decisamente non dico trash ma cringe a parte il fatto che spuntano nomi di personalità famose dell'epoca ma talmente tante che secondo me c'è poco ci mancava che se allungava il brother arrivava fino ai giorni nostri faceva fare una comparsata persino alla regina elisabetta seconda e a lady diana proprio per per dirvelo poi abbiamo un ispettore aberlane che per tutto il tempo della narrazione non fa altro che dire di avere bruciori allo stomaco allora se io sto personalmente se io sto un anno con i bruciori di stomaco ma da mo che sarei andato a farmi controllare in ospedale è prima cosa poi la storia con delle indagini con la storia con il protagonista la sua storia d'amore similarmony con questa infermierina di turno mamma mia il latte allecino occhia come non me ne è mai capitato in vita mia mamma mia è un peccato proprio per considerando che robert blocco comunque non è uno scrivacchino non è uno scrittore dell'ultima ora ma è comunque robert blocco c'è una delusione su tutta la linea e come ultimo romanzo ce l'ho qui a portata di mano eccolo qui ritorniamo al sherlock holmes versus jack the ripper che poi per inciso proprio sherlock holmes versus jack the ripper è pure il nome di un videogioco molto interessante bellissimo lo trovate completo pure su youtube se volete vedervelo come se fosse un film è molto bello e molto interessante io comunque a livello di romanzo ho l'ultima avventura di sherlock holmes di michael dibdin in cui si vede che come ultima indagine l'ultimo caso di sherlock holmes è quello di scoprire la vera identità di jack lo squartatore e a questo romanzo già ho dedicato una recensione completa in una dei primi video da quando ho aperto questo canale se volete recuperarlo vi lascio sempre il video nel nell'info nel pallino magico qui sopra se volete andarvela recuperare non vi dico niente molto interessante molto bello e secondo me gli autori della serie tv sherlock si sono hanno preso un po un bel po di ispirazioni da questo romanzo poi capirete se ve lo leggete lo capirete bene arriviamo adesso a le fonti storiche da me utilizzate che mi sono state molto utili nella costruzione nella presa degli appunti negli nella scrittura degli script per questi video che sono ancora in fase di scrittura ve lo dico francamente non è che sono già pronti magari fossero già pronti e partirei un po da da questo ritratto di un assassino di patricia corwell un libro che è famosissimo con questo romanzo patricia corwell ha praticamente enunciato la sua teoria su sul fatto che lei avrebbe scoperto senza ombra di dubbio senza alcun senza alcun dubbio in assoluto che jack the ripper altri non era che il famoso pittore dell'epoca walter sicart ne parlerò nell'ultimo video ne parlerò nell'ultimo video allora a parte la sua teoria che tratteggia questo è un libro molto interessante se si vuole comprendere bene l'ambiente in cui jack si muoveva i vari modi anche in cui ragiona un kill un assassino e anche come si sono svolti concretamente punto per punto i vari omicidi quindi è molto attento da questo punto di vista da un punto diciamo per la parte più crime ho preso molto spunto da questo libro io al di là di tutto ve lo consiglio perché teoria a parte è molto completo da un quadro molto preciso della londra dell'epoca soprattutto della londra dei delle delle zone più basse e poi ecco qua questi ultimi due libri ve li mostro insieme perché sono stati proprio i capisaldi per questi sempre questa serie di video le cinque donne la vera storia delle vittime di jack lo squartatore di ellie ravenold e qua in ebook oddio usate ecco qua lo mostro e in ebook jack lo squartatore la vera storia di paul bagg se andate a vedere le recensioni su questo libro vedrete che ci sono un sacco di recensioni negative perché molti lettori rimangono delusi dal fatto che aspettandosi di avere a che fare con un testo proprio su jack lo squartatore in realtà si ritrovano ad avere a che fare con un te con un saggio sulla londra dell'epoca sul contesto sociale culturale ed economico dell'epoca io devo dirlo ragazzi per me questo libro è stato forse il più importante perché mi ha permesso di comprendere un sacco di cose un sacco di aspetti sì è vero se uno pensa jack lo squartatore vuole sentire la storia di fatti di sangue del giallo del mistero eccetera eccetera però è impossibile non scindere jack lo squartatore dalla sua epoca non lo si può scendere dalle sue vittime e di conseguenza se non lo scendi dalle sue vittime non si può scendere dal contesto culturale sociale in cui si è mosso e sia questo libro che questo soprattutto per quanto riguarda la vicenda delle cinque vittime ufficiali di jack mi hanno molto aiutato specialmente questo video questo romano questo libro qua della benold che mi ha che mi ha portato a scegliere di fare dei video dedicati interamente alla vita però alle vite proprio di quelle delle cinque vittime canoniche ufficiali quindi io non parlerò solo di jack e dei suoi omicidi ma parlerò principalmente delle sue vittime perché come ha detto come ha scritto la stessa all'ira benold l'unico modo che abbiamo per impedire a jack di vincere ancora oggi è di ricordarci che le sue vittime prima ancora di essere tali erano state delle donne hanno vissuto hanno avuto degli affetti hanno amato sono si sono sposate hanno avuto degli amori hanno avuto dei figli hanno avuto delle sofferenze hanno avuto delle sventure hanno avuto qualcosa che le ha portate nel punto preciso in cui hanno incrociato per loro sventura jack e secondo me va ricordato vanno ricordate più loro che jack altrimenti jack continuerà sempre a vincere vedremo sempre soltanto lui questa silhouette nera con armata di coltello di rasoio stagliarsi contro un lampione nella nebbia di londra e ci dimenticheremo di loro loro che sono le vere vittime loro che comunque meriterebbero più rispetto in assoluto un rispetto che noi che a loro non è mai stato concesso e a tutt'oggi non viene loro concesso a maggior ragione quando le pensiamo pensiamo a loro soltanto come dei dei corpi senza vita ecco allora fine del mio sfogo scusate quindi tra gli appunti presi su questi libri specialmente sono saltati fuori un sacco di argomenti quindi di argomenti interessanti che non vi esporrò tutti adesso ma li cadenzerò nel corso dei prossimi video a mano a mano così da arricchire di più anche le la narrazione quindi parlando agli altri esperti in ascolto specialmente per chi è molto più esperto di me nella storia della dell'inghilterra vittoriana di quell'epoca eccetera se vi sembrerà che non ho parlato di un determinato argomento non preoccupatevi quell'argomento arriverò a ne parlerò prestissimo mano a mano in ogni video ne parlerò bene in questo video introduttivo voglio fare giusto un'esposizione per grandi linee di alcuni aspetti che caratterizzavano la la società inglese in quell'epoca ma si potrebbe tranquillamente prendere l'epoca vittoriana in nella sua interezza un'epoca di contraddizioni in cui l'espansione e la ricchezza dell'impero britannico si affiancava ad una miseria sociale negli strati più bassi della popolazione che da far spavento per portarvi un esempio i romanzi di di charles dickens come oliver twist grandi speranze david copperfield tutti quelli in cui vediamo protagonisti immersi nella miseria più nera ecco se notate ogni volta che a questi poveri disgraziati di protagonisti capita di interagire con persone socialmente più elevate di loro vengono quasi sempre trattati come dei criminali anche se si tratta di bambini innocenti come nel caso di oliver twist e quelle stesse persone che li discriminano proprio quelle persone che prima le hanno maltrattate diventano sussiegosi affettuosi lecchini non appena i nostri protagonisti ottengono un riscatto sociale e soprattutto un riscatto economico può sembrare una caricatura portata agli estremi complici anche i personaggi dickensiani che sembrano qua così coloriti sia nei loro nomi che nel loro aspetto fisico ma in realtà sono molto più vicini alla realtà di quanto non si creda non dimentichiamoci che dickens attinse a piene mani dal suo vissuto personale per buona parte dei suoi romanzi e adesso ragazzi devo fare un'invocazione a uno dei grandi di youtube italia devo faccio appello al sommo maestro morte bianca che mi dia la sua forza per poter seguire le sue orme e blastare sì è la prima volta che uso questo termine blastare come si deve i protestanti sì perché gente senza che ci giriamo attorno alla base di questo divario sociale c'è proprio la religione protestante la religione capitalista per antonomasia perché alla radice di quel divario sociale scusate se mi sto ripetendo che quella alla radice di questo divario che aveva spaccato letteralmente in due la società vittoriana ben rappresentato dalla capitale londra c'era la ferma e religiosa convinzione che se c'erano ricchi e poveri non è che perché ci fosse un problema di carattere economico sociale no era il volere di dio sì era dio se eri ricco eri ben voluto da dio che ti premiava con la ricchezza materiale anche se quelle ricchezze te le hai guadagnato in maniera sporca e criminale e anche se tu eri il più grandissimo pezzo di letame che esistesse sulla terra ma no se eri ricco allora volevi anche se eri un criminale incallito era dio che ti voleva bene ti dava tutte le ricchezze di questo mondo sì se invece eri povero era dio che ti puniva perché eri colpevole di una qualche colpa anche se eri un povero orfanello di sei anni io non ho parole mi dovete credere ho un travaso di bile ogni volta che vedo questi questi atteggiamenti ecco non ho non ho molta simpatia con i luterani mi dispiace non voglio fare di tutta l'erba un fascio però diciamo che fra le varie religioni fra le varie fedi le varie correnti ecco diciamo che il luteranesimo il protestantesimo non è proprio tra i miei preferiti ecco non ho molta simpatia allora uno può pensare che un simile modo di pensare sia una bazzecola così senza ripercussioni e invece no prova ne è che questo divario sociale sarebbe emerso più e più volte all'interno della vicenda dei degli omicidi di jack e a questo riguardo credo sia dopo leggere due testi dell'epoca da così da metterli a confronto per farvi sentire proprio per farvi sentire due campane sì letteralmente due campane ben distinte quella della aristocrazia di classe quella la che è proprio protestantesimo intensi fritz sì scusate non me l'avevo preparato prima mannaggia a me mannaggia a me ecco qua ci arrivo subito ok bene perfetto allora quindi da una parte abbiamo la campana dell'aristocrazia di classe e poi quella dei democratici che se vogliamo chiamarli così che da anni proprio in quell'epoca cercavano di risolvere il problema di questo di questo divario ecco allora ecco qui ecco fatto allora tengo tutto pronto ecco qui iniziamo dal ecco qua io suggerirei di iniziare proprio dalla campana dell'aristocrazia allora questa non è ecco qui questo lo leggo dal dalla conclusione di le cinque donne della Rabenold allora allora poco dopo la morte di annie chapman la seconda vittima ufficiale edward firefield alto funzionario del colonial office e residente nella lussuosa south eaton place nel quartiere londinese di belgravia si sentì in dovere di brandire la penna e scrivere una lettera al times era particolarmente allarmato per la serie di omicidi di white chapel di fatto a preoccuparlo non era la morte delle depravate abitanti di dorset street e di dinam flower street edward firefield si angustiava perché sulla scia di quel trambusto magari le donne come annie chapman si sarebbero spostate dalle loro topaie infernali di spitalfield per invadere il suo vicinato portando la corruzione su vie fino ad oggi incontaminate allora scrive questo bel figurino questo edward firefield l'orrore e l'agitazione provocati dall'omicidio delle quattro reiette di white chapel alimenta la convinzione diffusa che avessero il diritto di vivere proseguiva questo membro del governo in tal caso avrebbero avuto l'ulteriore diritto di trovare il rifugio dalla rigidità delle notti inglesi se invece non avevano questo diritto allora tutto sommato è un bene che siano finite nelle mani di questo genio chirurgico sconosciuto a ogni modo l'assassino ha dato il suo contributo alla soluzione del problema di come liberare gli stand dai suoi abitanti dissoluti sì lo so allora molti di voi si staranno incavolando già mi immagino magari anche qualche signorina che mi sta fissando che ha deciso di prendere a pugni qualcosa giustamente ragazzi guardate io quando ho letto questo punto ho dato un cazzotto al muro non vi faccio vedere la crepa che ho creato mi sono fatto un po' una litigata con mio padre ma va bene e questa era la campana aristocratica avete già capito bene come la si pensava all'epoca bene passiamo adesso la la parola alla voce dei democratici che è una voce piuttosto famosa anziché no ovvero george bernard showb in una sua lettera indirizzata al quotidiano the star allora ve la vado a leggere me la sono segnata qua sir mi permetterà di fare un commento sul successo dell'omicida di white chapel nel richiamare per un momento l'attenzione sulla questione sociale meno di un anno fa la stampa del west end guidata dalla saint james gazzet dal times e dalla satire dei review invocava letteralmente il sangue del popolo braccando sir charles warren il commissario dell'epoca affinché spazzasse via la feccia che osava lamentarsi perché moriva di fame sommergendo di insulti e calunnie spudorate chi intercedeva per le vittime plaudendo con clamore all'aperto pregiudizio di classe di quei magistrati e giudici che facevano con zelo del loro peggio nei procedimenti penali che ne seguirono comportandosi in breve come sempre fa la classe possidente quando gli operai la gettano nel terrore azzardandosi a mostrare i denti ignoravano questi giornali e i loro lettori le rimostranze indignate i ragionamenti i discorsi e i sacrifici gli appelli alla storia alla filosofia biologia economia e statistica i riferimenti ai rapporti di ispettori assistenti medici missionari urbani commissioni parlamentari e giornali tutta l'evidenza dei cinque sensi ad ogni angolo e le indagini casa per casa sulla condizione dei disoccupati tutte senza risposta e irrefutabili tutte che andavano nella stessa direzione la satire dei review era fermamente intenzionata a fare impiccare gli appellanti e il times li denunciava come peste della società questo era il tono della stampa di classe ancora durante lo sciopero delle ragazze di bryant e may adesso è cambiato tutto l'impresa privata è riuscita là dove il socialismo aveva fallito mentre noi social democratici tradizionali sprecavamo il nostro tempo su istruzione agitazione e organizzazione un genio indipendente ha preso in mano la faccenda e semplicemente ammazzando e sbudellando quattro donne ha convertito la stampa dei possidenti a una specie anacquata di comunismo la morale è chiara e gli insorti i dinamitardi gli invincibili e l'estrema sinistra del partito anarchico non tarderanno a trarla umanità scienza politica economia e religione diranno sono tutte marce l'unico argomento che tocca voi signore e signori è il coltello è una cosa davvero piacevole per il partito della speranza e della perseveranza nella sua dura lotta con il partito della disperazione e della morte ovviamente george bernard show prima che un uomo di di somma cultura che in quel caso stava scrivendo un giornale era anche un uomo di lettere e infatti tra queste parole come avrete capito c'è molta 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 satira infatti lui come avrete capito ha fatto notare come nonostante che prima la classe sociale elevata che avrebbe dovuto occuparsi di risolvere questo problema della povertà nella nelle zone più povere di londra non voleva sentire ragioni quando c'erano le manifestazioni le proteste di piazza assolutamente no invece appena salta fuori un criminale che uccide delle povere donne tutti quanti anche quelli delle sfere più alte si intimoriscono si mettono paura aprono finalmente gli occhi apriti cielo e capiscono che c'è questo che alla base c'è un problema che andrebbe risolto ovvero quello della povertà cioè in altre parole questa lettera si potrebbe riassumere con george bernard show che dice ai vari sere eduarda destaceppa qua buongiorno cari sere eduarda destaceppa buongiornissimo proprio giusto per farvi capire questi due aspetti ben distinti che emersero proprio all'epoca di questi fatti orribili allora ma come si era andata a creare questa situazione di degrado e povertà nella zona est di londra principalmente paradossalmente la colpa era in parte dovuta all'industrializzazione l'industrializzazione aveva spopolato le campagne portando ad un aumento degli abitanti delle città dove si riversavano fiumane di uomini e donne che non potendo guadagnarsi da vivere nei campi tentavano la strada del lavoro nelle fabbriche un lavoro duro e anche pericoloso per la totale assenza di strutture di sicurezza o di ripari da eventuali intossicazioni soprattutto se si aveva a che fare con materiali tossici come i combustibili fossili o gli agenti chimici delle delle industrie tessili ovviamente posti di lavoro per tutti non ce n'erano gli abitanti aumentavano e di conseguenza aumentava anche la miseria e la miseria porta con sé ogni forma di degrado quelle che più preoccupavano le varie associazioni umanitarie che stavano nascendo in quel periodo come avrete capito dalla lettera di george bernard show erano principalmente quelle che più preoccupavano lo sfruttamento del lavoro minorile e appunto la prostituzione il mercimonio e molte volte questi due problemi tendevano anche a coincidere purtroppo si registravano addirittura episodi in cui gli stessi genitori si riducevano a vendere i propri figli ancora piccoli per sfamare se stessi e il resto della famiglia alle volte li vendevano a proprietari di fabbriche che usavano mano d'opera in nero formato da bambini altre volte purtroppo i bambini finivano nelle mani degli orchi capitemi e questi orchi appartenevano quasi sempre a classi sociali benestanti giusto per farvi capire l'ipocrisia che animava quest'epoca gli stessi che pontificavano dal fatto che i poveri dovevano restare là nella loro condizione perché questo era il volere di dio erano gli stessi che lo incentivavano praticando azioni contro di loro orribili al limite del disumano ecco come vi ho detto c'era chi cercava di risolvere questi problemi basti pensare ad esempio a william boot che fondò l'esercito della salvezza un movimento di matrice religiosa che aveva come suo fine primo l'assistenza agli strati più bassi della popolazione il loro compito principale dell'esercito della salvezza era quello di portare aiuti materiali e soprattutto conforti spirituali sì perché nella loro concezione la miseria era dovuta ai vizi anche loro non uscivano proprio da questa mentalità protestante e quindi la salvezza veniva prima dal riequilibrio spirituale dell'individuo il loro fine quindi era salvare delle anime non della povera gente l'idea proprio di voler salvare proprio le persone materialmente apparteneva alle sfere più politicizzate come gli anarchici i social democratici quelli che diciamo facevano anche un po leva su questi aspetti per andare contro l'istituzione monarchica il cercare di arginare il problema del vizio della povertà chiamiamola così portò anche alla nascita delle workhouse l'equivalente italiano potrebbero essere gli ospizi di mendicità queste workhouse erano centri di accoglienza lavorativi ma che in realtà erano quasi dei centri di detenzione gli uomini e le donne vivevano qui in aree separate per evitare atti di promiscuità i bambini potevano stare con le madri solo fino ai sette anni età in cui venivano accolti nella scuola locale quasi sempre gestita da loro da qui però uscivano quasi subito per essere messi al lavoro stesso nella fabbrica ma se gli andava bene venivano loro trovati i lavori al di fuori magari se erano bambine potevano andare a servizio in qualche famiglia agiata oppure venivano mandati a lavorare anche nelle fabbriche però anche lì non è che c'era proprio la sicurezza non era il posto adatto per i bambini i lavori all'interno delle workhouse variavano a seconda che fossero più adatti agli uomini come il mestiere dello spaccapietre o per le donne che in quel caso erano i lavori riguardante la pulizia degli ambienti e delle biancherie e quant'altro ma erano comunque lavori durissimi svolti senza alcuna assistenza o sicurezza e il cibo era misero e scadente pensate che ancora alla fine dell'ottocento in alcune workhouse ci si lamentava per il fatto che nel cibo fossero presenti escrementi di ratti e poi e quindi di conseguenza le condizioni igieniche erano spaventose in quei posti c'era una continua proliferazione di infezioni e malattie e a tutto ciò si aggiunge il fatto che passare per le workhouse anche solo per un brevissimo periodo ti segnava vita agli occhi della società perché in quel caso se dicevi che eri stato in una workhouse anche solo di passaggio per breve tempo venivi etichettato in quanto reietto e quindi come paria e di conseguenza per te diventava difficile cercare di trovare un lavoro quindi era una catena un cerchio che non si interrompeva uscivi dalla workhouse tentavi di trovare lavoro ma non riuscivi a trovarlo oppure lo perdevi dopo dopo un poco e finivi per ritornare nella workhouse nelle workhouse poi si cercava anche di trovare un un problema a un altro dei vizi molto presenti tra gli stati bassi ovvero quello dell'alcolismo ma di quello ne parlerò su in uno in un prossimo video perché c'è molto da dire anche sulla questione dell'alcolismo e poi per tornare alle workhouse la cosa paradossale è che erano le stesse parrocchie e gli stessi enti benefici che incentivavano questa pratica delle workhouse perché ritenevano che lo spauracchio del finire in una workhouse avrebbe spinto la povera gente a darsi da fare per trovare lavori onesti e mantenere uno stile di vita più consono alle virtù cristiane cioè a queste persone non gli passava neanche per la testa che in questo modo favorivano ancora di più le condizioni di vita disagiate che loro avrebbero voluto risolvere perché i poveri pur di non finire nelle workhouse preferivano darsi all'accattonaggio all'atrocinio e al mercimonio quindi alla fine il problema non solo persisteva ma peggiorava la miseria quindi portava con sé anche la criminalità e ovviamente a dover tenere a tenere il freno a questo a freno questo aspetto c'era la polizia metropolitana a capo del quale c'era nel periodo che stiamo prendendo in esame quindi il 1888 un personaggio assai controverso Charles Warren l'uomo che diresse le operazioni attorno al caso di Jack e di Whitechapel quella di Warren è una figura a tutt'oggi quasi demonizzata dalla filmografia dalla narrativa ma anche dagli studi dagli studi più storici più sociali più seri è il fatto che venga demonizzato a volte viene fatto a ragione altre volte atto abbastanza a torto a parte il suo ruolo di primo piano nelle indagini Warren è famoso anche per le critiche che ebbe dopo la cosiddetta domenica di sangue del 13 novembre del 1887 circa un anno prima dell'inizio degli omicidi quando ci furono degli scontri violenti tra la polizia e l'esercito e gruppi di protesta di matrice socialista formata principalmente da disoccupati e irlandesi che volevano la secessione dell'irlanda dal regno unito la mala gestione di quella situazione non fecero bene alla reputazione di Warren ancora oggi viene accusato di non aver fatto abbastanza se non se non niente per risolvere il caso degli omicidi di white chapel perché a lui per primo secondo a detta di molti non interessava che jack facesse le sue vittime tra gli strati più bassi della popolazione cosa falsissima perché Warren fece il possibile e quelle scelte e azioni che gli valsero le critiche dei posteri le prese unicamente per non creare agitazioni popolari col rischio che si ripetessero i fatti della domenica di sangue tentò in tutti i modi di contenere la situazione ma non riuscendovi diede ufficialmente le dimissioni proprio il giorno in cui venne scoperta l'ultima vittima ufficiale c'è chi dice che a spingerlo alla dimissione fosse stata proprio la sua impotenza nel trovare il colpevole ma in realtà abbiamo prova che lui avesse già preso da parecchio l'idea di dimettersi il fatto che queste le ha che che le abbia rassegnate proprio quel disgraziato 9 novembre del 1888 fu una pura coincidenza tra le altre cose che Warren si ritrovò ad affrontare nel pieno marasma del caos dovuto agli orrori di white chapel c'era la questione della prostituzione sì perché un ulteriore problema presente non solo tra le classi elevate ma anche dalle forze dell'ordine era quello di considerare qualsiasi donna che vivesse negli stand a prescindere una donna perduta per usare una definizione molto amata all'epoca a questo riguardo è da notare il caso di Elizabeth Cass una giovane sarta che una sera mentre stava girando per strada vedendo le vetrine dei negozi e le luminarie messe per il giubileo della regina vittoria venne fermata dalla dalla polizia e arrestata perché ritenuta una prostituta a fatti chiariti Elizabeth intentò causa alle forze dell'ordine per quale motivo i poliziotti l'avevano ritenuta una prostituta semplicemente perché era una donna di bassa estrazione che girava da sola di sera questo caso si rivelò uno scandalo col quale i progressisti andarono a nozze denunciando l'essere prevenuti delle forze dell'ordine per evitare simili scandali warren ingiunse ai suoi sottoposti di non dare mai per scontato che una donna fosse una prostituta solo perché povera persino nei casi degli omicidi di Whitechapel lui ha decise di andare piano e non disse mai apertamente che si trattasse che le vittime fossero donne perdute e anche perché nessuno aveva nemmeno ben chiara la definizione di prostituta era definita tale non solo chi praticava il mercimonio ma anche le donne che avevano relazioni al di fuori del vincolo matrimoniale che vivevano more uxorio con altri uomini quindi senza essere legalmente sposate che si separavano dai mariti bastava davvero poco per essere etichettate come donne perdute e quindi prostitute e in più c'era anche la questione se dovessero essere definite prostitute anche quelle che praticavano una sorta di prostituzione sporadica usata giusto per arrotondare le entrate di lavori poco remunerativi se si dovesse ritenere una prostituta una che praticasse o meno atti completi oppure no eccetera eccetera lo stesso Warren disse che una prostituta doveva essere tale unicamente se era lei che si autodefiniva tale se quando veniva arrestata si definiva come tale allora era una prostituta perché era lei stessa ad ammetterlo ma per il resto nessuno doveva azzardarsi soprattutto tra le forze dell'ordine poteva azzardarsi a dare per scontato che lo fossero come vedete questa questione è più complessa di quanto non sembrasse perché vi ho raccontato questo argomento apparentemente a caso beh perché anche se per molti è scontato che Jack abbia ucciso unicamente prostitute in realtà delle sue cinque vittime canoniche solo una sembra che praticasse il mercimonio mentre le altre no o comunque non furono mai arrestate o schedate come tali e infatti io andandomi ad informare e facendo un po' di collegamenti non solo leggendo questo libro ma anche leggendo le altre fonti è uscito fuori che veramente quattro vittime su cinque non sembra che abbiano mai praticato la prostituzione davvero ragazzi l'accenno persino quando in altri testi si parla che si prostituissero se notate viene sempre detto forse a quanto pare sembra che avesse iniziato a prostituirsi cioè non si usa mai la certezza ma solo il periodo ipotetico di questo noi avremo modo di parlare poi nei video nei prossimi video in cui mi dedicherò interamente a loro ebbene questo già ci porta a rivedere un bel po' di cose nel caso di Jack primo fra tutti il fatto che probabilmente non uccideva le sue vittime perché prostitute e quindi per lui esseri indegni di vivere o che lo avevano contagiato con qualche malattia venerea eccetera eccetera a quanto pare da che mondo è mondo scelsi le sue vittime in base a loro essere indifese e contentamente ignorate quando non proprio disprezzate dalla società quindi in altre parole Whitechapel con le sue donne povere era un campo per Jack era un campo da cui strappare piante ammanciate e arriviamo quindi alla storia ufficiale i fatti di quell'autunno di sangue del 1888 ebbero inizio qualche mese prima ancora prima della prima vittima ufficiale in aprile per inciso quando una donna di nome Emma Elizabeth Smith abitante del quartiere di Spiterfield nella zona di Whitechapel venne aggredita per strada e le venne fatta violenza con un oggetto contundente che le perforò il peritoneo Emma sarebbe stata soccorsa e curata ma morì pochi giorni dopo per la ferita riportata di che era subentrata la peritonite in quel frangente morì pochi giorni dopo dopo aver testimoniato che ad aggredirla furono un gruppo era stato un gruppo di tre uomini la polizia tentò di risalire agli assalitori ma senza esito positivo contice anche l'omertà e il timore di ritorsioni che si respirava negli stand che dove non mancavano le bande criminali anche violente come si è potuto vedere successivamente molti esponenti delle forze dell'ordine avrebbero ritenuto questa aggressione il primo episodio collegato a Jack lo squartatore anche se considerando il tutto non è credibile che ciò sia possibile non è credibile che ciò sia possibile la mattina del 7 agosto di quello stesso anno sul pianerottolo di un edificio abitato in Georgiard venne rinvenuto il corpo senza vita di Martha Tebram colpita da 39 colpi di arma bianca sul ventre il petto e il collo secondo l'autopsia con un'arma lunga sul modello della lama di una baionetta a quanto risultò la donna era una rivenditrice di oggetti di bigiotteria che proprio la sera prima durante una serata passata in una taverna con un'amica di nome chiamata Pirli Paul che testimoniò sulle ultime ore di vita di Marta dopo una serata passata insieme le due donne si accompagnarono a due soldati con le quali si appartarono in diversi posti quindi secondo andando un poco a considerare un po la faccenda complice anche il fatto che si disse che a colpire la donna a uccidere la donna fosse stata un'arma bianca di grosso calibro quindi o una spada o la lama di una baionetta armi prettamente militari e che Martha Tebram e la sua amica si erano accompagnate con due soldati e beh è facile fare due più due e capire che a uccidere la povera donna era stata il suo accompagnatore anche questo caso però purtroppo rimase irrisolto complice l'impossibilità di rintracciare il soldato in questione forse coperto dai suoi commilitoni già il caso di Martha Tebram avrebbe fatto sollevare le antennine di chi avrebbe partecipato alle indagini infatti da una certa prospettiva questo omicidio sembrerebbe un primo tentativo anche abbastanza goffo ma se si considera quello che avvenne alla fine di quel mese il 31 agosto il salto di qualità di questo assassino sconosciuto sembrerebbe essere troppo esagerato come passare da un estremo all'altro dal caos all'accuratezza eccetera per cui anche con il caso di Martha Tebram si è dubbiosi se inserirlo o meno tra gli omicidi di Jack e come vi ho detto arriviamo infine alla notte del 31 agosto quando questa orribile storia ha inizio ma prima di parlarvi di cosa avvenne quella notte come vi ho detto trovo che sia doveroso parlare della donna protagonista di questo orribile accadimento e seguirò questo metodo per tutte le altre donne perché per ripetere quello che vi ho detto all'inizio come ha detto Ellie Rabenold l'unico modo per impedire a Jack di vincere è tenere bene a mente che le sue vittime prima di essere tali sono state delle donne vive ognuna con la propria storia ed è su queste storie che mi soffermerò nelle mie prossime video lezioni bene termino qui il mio prologo introduttivo un prologo questo più lungo di quanto non avrei voluto che fosse bene e noi ci rivediamo quindi alla prossima video lezione in cui parleremo di Mary Ann Nichols o detta o o Polly Nichols come dirsi voglia la prima vittima vi racconterò della sua storia e capiremo come mai si trovò in quella strada proprio precisa e come si trovò probabilmente a incrociare la lama di Jack bene spero che questo primo video introduttivo vi sia piaciuto lasciatemi un like se così è stato commentate ditemi la vostra su questo argomento su cosa ne pensate se pensate che io abbia mancato di dire qualcosa di importante lasciatemi tanti commenti mi raccomando iscrivetevi al mio canale per rimanere aggiornati sui miei prossimi video mettete mi piace alla mia pagina facebook seguitemi anche su instagram sempre se volete e noi ci rivediamo ad un prossimo video e ciao